Prima di avviare il video, vorrei ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace grazie. Fabrizio Corona ha fornito importanti dettagli sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino attraverso il suo canale Telegram. Secondo lui, il motivo della separazione sarebbe da attribuire al fatto che Stefano sarebbe tornato con Belen solo per ottenere un interesse mediatico e un ruolo istituzionale nella sua carriera, utilizzando l'immagine della famiglia per aumentare la sua popolarità. Corona ha sostenuto che la coppia si sarebbe lasciata sei mesi prima del momento in cui la notizia è stata resa pubblica. Afferma che Stefano si sarebbe concentrato solo sul lavoro e avrebbe iniziato a vergognarsi di Belen, ritenendola poco intelligente e non amando più la sua compagnia. Belen, a sua volta, avrebbe provato difficoltà a sopportare la situazione e si sarebbe sentita inadeguata nel rapporto, specie quando Stefano le chiedeva di andare a cena e non sapeva cosa dirle. Corona ha anche rivelato che il motivo principale della rottura sarebbe stato il tradimento di Stefano. Sembrerebbe che Belen abbia scoperto le chat compromettenti sul suo iPad collegato all'iCloud del cellulare di Stefano, confermando i suoi sospetti di infedeltà. La separazione tra i due sarebbe avvenuta in modo relativamente tranquillo, con Belen che avrebbe scritto una lettera a Stefano per porre fine alla relazione, e lui, commosso, avrebbe avuto difficoltà a accettarla. Questi dettagli forniti da Fabrizio Corona hanno gettato luce sulle vere ragioni della rottura tra Belen e Stefano, mettendo in evidenza problemi di compatibilità e di fiducia all'interno della loro relazione. Quindi ti invito a lasciare un like e un commento sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensi e per contribuire al successo del canale. Grazie di cuore per il tuo supporto e per essere parte di questa meravigliosa community. Grazie. 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 Grazie.